Motore. Partito. Partito. Jack. 5 a 1 seconda. Azione. Porta, eh, quando se no, non la pugnala così, non la pugnala così. No, al contrario. Con la mano, ok, al contrario. Allora, io gli farei lasciare gli occhi aperti. Neutro, un'espressione neutra, perché non gli interessa. Te l'ingoccio. Mi butta pure la spada, la spada, la spada. Te lo butto in bocca così? Te lo butto in bocca così. Partito. Jack. 6, 1, a seconda. Azione. È ora che il cammino fa un piaccio aperto. Stop! Sì, sì, no. Abbiamo uno sbilanciamento, perché lì c'è la finestra aperta, e qui c'è la finestra chiusa. Allora, quindi la prima scena, il carretto scende da lì, e poi, davanti, proviamo intanto le posizioni, mettete, fai finta che, allora Sara, tu metti da centro, sei un carretto. Tanto la forma è quella. Sara è un carro. Sì, è un motivatore. No, sto a scherzare. È un motivatore. Allora, Sara fa il carretto. Adesso proviamo la formazione davanti, che verrete giù camminando lentamente, tutti incappucciati, quindi incappucciate. Manuel, c'è lo stacco sulla fronte da lui? Sì, passa in primo piano, lì c'è uno. Fammi rifermare, fino a tu arrivano, perché poi dopo, lì, in un certo punto si sposta. Quattordicesima. Azione. Già, Geppo si scopriva. Stop! Geppo si scopriva. Allora, dovete fare un passo, e girabbe subito. State di, tu, azione, già, Geppo, tu scoprirà chi mi ospira, boom, e te giri. Capito? Subito però, il movimento è subito, gira. Ma, allora, tu fai così. Uno, no, però ti vedevi lì contro la spada. Uno, poi sotto, vai. Uno di loro morirà. Due, tu mi fai girare la spada. No, giù. Quando sei arrivato qua. Ma che cosa? Tagli, tagli, allora. Ok. Ciak? Dama, prima. Rifallo. Dai, veramente, c'è, la mamma di capretà. Il capretà da parte, ah, me l'ho messo a dimenticare. Venga stato. Vai, vai. Dama, il capretà da parte prima. Vai, Ciak? Dama, il capretà da parte prima. Ok, Ciak. Vai. Carretto sbutellato prima. Carretto sbutellato prima. No, aspetta, non l'ho visto bene. Giù, 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 giù. Ok, vai. Carretto compito con frecce prima. Non lo possiamo mettere più leggermente verso il secondo, terzo? Perché di là ce sta... Oh, ho spostato l'inquadratura, Graziano. Ce stai nell'immagine, Graziano? Serio? Sì, uscirà a ballo di prima. Azione. In coda, in coda, fermi tutti, fermi tutti. Regà, azione partita. Cioè, fermi, fermi, riacquistate concentrazione, riacquistate silenzio. Tre, due, uno, azione. Sì, vabbè. Azione, azione. Azione partita. In coda, in coda, in coda, in coda. Fai coda, fate capire. Regà, azione dovete partire. Tagli! Oh, zero risate. Ciarrone. Aspetta. Vabbè, intanto ciarrone lo può fare. Fate passare la macchina. Vai. 11 G, prima. Ok, esci. Proseguite fino allo stop, eh. Tu, ricorda, è una bella scherzata tu. Tre. Che palle. Un po' gira a destra. L'occupa. Vabbè, però è tutto materiale per il backstage. Eh no, non stiamo arrivati. Manuel, Manuel, sta andando verso tu. Ok. La macchina di Caramolo. Dopo, portate la camerina, per favore, Gisè. Dopo. Dai, approfittate. Tre, due, uno, azione. Ok. Pronti? Fa parte Camillo con la battuta, eh. Ok? Tre, due, uno, azione. In coda? Allora. Fatto un struzzo. Ti cacciate. Ti cacciate con lui. 9, 1, B, prima. Azione. Vedrai. Andrà tutto bene. Fingerò di portarti da Geppo. Stop. No, no, senza stop. In coda, in coda. Hai stoppato? Ok, perfetto. Tre, due, uno, via. Quando finisce il tuono partiamo? Cioè, tra sette minuti. Che hai dato azione al tuono? Madonna, che è? Hai esploso? Vabbè, allora. Silenzio. Do glielo azione. Mazza che coda che abbiamo fatto. Due minuti da in coda. Guardalo. No, regà. Fagli le foto, fagli le foto. Dagli un po' a camera. Vai, 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 Giorgio. Ciao. Eh. Oh, grazie. Guarda Fabrizio sta registrando. Eh, eh. Ciao, ciao, ciao. E ti fa. 3, 2, 1, azioni. 3, 2, 1, azioni. Ok, 3, 2, 1, azioni. Guardo secco, Mattia. Pronto a morire. Non bello. Eh, la forza di casca. In guardia, in guardia. Via. Azione. In coda? Sì. Mi odio. Oh, regà. In questo momento, io fai questa cava attaglia. Che è successo? Ho sbattuto qua. Mare, ma scrofa. Che è successo? Fabrizio si è schiantato contro il carretto. Io vedo una manovacchia che... Non posso. È il dove casco? No, sono l'ultima, regà, poi non la metto più. Grazie. 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 This is my last wish Life to compose this pain These are my last words Now I'm all for you This is my last wish Life to compose this pain These are my last words Now I'm all for you Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh